4.300 piedi su penne entrando nel cittadino di Pescara Buona giornata anche a lei, 120.05 Pescara avvicinamento a prossimo Ciao l'India, India, Charlie, Bravo Alfa Il Bravo Alfa è un WFR per scara per scara Stiamo rientrando nel cittadino di Pescara, 4.500 piedi di scuola per il campo L'operativo è una pista 2-2, 1-3 di Pidacca, il vento per scuola per scuola Il campo è di rispondimento per entrare nel tolta l'vento destro 2-2 Grazie a voi è partita ricevuto Bianca Teramo ricevuto Sam01, Croce Rossa in arrivo ricevuto Rossa 614 rientro a Santo Nero ricevuto 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.